no 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 i foggiani che s'atteggiano quando vengono ad Avellino che sono sempre in cinquecento in quattrocento in seicento in settecento vi faccio vedere queste immagini che troverete qui alla destra bello mandarvi così eh ad Avellino sono quattro cinque anni che date duecento spettatori nel settore ospite è bello così eh adesso che Avellino ha unito di nuovo la piazza con Massimo Rastelli i risultati sono quelli che su potevamo venire a foggia in mille in mille perché sarebbero finiti i biglietti no duecentoventi biglietti per i tifosi ospite bravi 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 certamente la colpa non è dei tifosi eh per l'amor di Dio la colpa è dello stadio a capienza serie C per l'amor di Dio per l'amor di Dio ma non vi vantate quando non sapete le cose per cortesia non vantatevi perché senza offesa è vero il foggia in serie B faceva grandi numeri grandi numeri però pure Avellino quando i cose ripeto quando le cose vanno bene anche Avellino a tifoseria ha sempre risposto presente e non lo dico io lo dico nei numeri terza quarta come posizionamento agli ospiti cioè Avellino era la terza quattra squadra che faceva più spettatori in trasferta cioè l'Avellino è una squadra che fa più spettatori in trasferta che neanche in casa per farti capire quindi non vatteggiate eh quando date 220 taglianti al settore ospiti eh perché il foggia Avellino sta là è nora è nora e mezza di macchina capi non vi mandate capi datemi 2000 biglietti faccio vedere babbo ci vediamo lunedì sera caro foggiano abbiamo un conto di sospizio speriamo di vincere speriamo di vincere oh no ci vediamo di vincere ciao belli grazie a tutti